la nostra Stefania Cappa che ci fa capire quanto sia importante rispettare le regole ma prima di nomenetta l'ironia si può applicare su qualunque tema io ho una mia vignetta, un mio classico, diciamo così, sul problema di chi non ha la casa c'è un omino che ha sulle spalle una grossa chiocciola ecco, adesso lo vediamo e chiede a un altro, tu, lei come ha risolto il problema della casa? Delicata ma pungente allora, Stefania Cappa, perché è importante rispettare?